webbrokeri decidi fare un nuovo format per il canale poi aspetta un po dai allora ci vediamo oggi a casa mia tra tre ore e stacchi il telefono oh snap asco e ti propongo un nuovo più no no hit eh mi c'è qua ma che entra ragazzone non è riuscito ancora a entrare dalla porta è molto difficile da mossa eh spegni qua nooo va bene andrà una mappa capo al nello tu ti giro questo ti metti il cino e ti metti qui ahahah mi vorrei dare la rita sicuro no 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 quando sei pronto o mai no dai è peggio mi insegno la peggio no 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 bella a tutti ragazzi io sono fammi ge no 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 è un po' che c'è dolore, non so che arre io non Vanno, 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 vanno Oh, no No, no Oh, no No, era sfocato per adesso. Lo so! Era perfetto adesso! No, lì qua, lì la sfocatura. Si è ritardo, lo so! Lo so! Vabbè le corrette almeno le battute! Si è ritardo, ma come sono adesso? Ma aspetta! Dai adesso no, vai! Credenza! Basta! Guarda, guarda! Basta! Lo so, scusa! Aspetta! È tanto superito! Amici! Tu ti vedi il profilo, però gli occhi non si vede! Ma così? Proprio coordinato! Quante le faccia? Uno, due, tre! Tre! No! No! Lo so! the